74 No, è niente Non si può rischiare di fare Vediamo Ok Bella la splash art intera Che è la stessa del banner Però vista pullata è tutta un'altra roba Ok, easy T di 64 Col 50 e 50 Top, bene A me ne abbiamo anche risparmiato La roulette pazza La roulette pazza Allora, bene Quando vuoi, Rich Noi possiamo andare Ok, giustamente ce l'abbiamo Non era scontato Grazie, Enjay Ci sto attentissima all'emoticon Tantissimo Quindi è un super complimento per me La lancia è giusta Allora, la lancia c'è Effettivamente se lei non la indossa Cioè se non la indossa lei È fatta così più o meno anche quell'altra Ok Bello 64 Vabbè, doppie 4 stelle Non si butta via 65 Però aspetta Aspetta Ti manca? Sì Giura Giuro Per Marco Per Marco Sì 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 Meno male no 68 Ok, dai che sia lei Yes Niente arco di quella merda Niente arco di quella merda Hai detto Intendendo che lei No, no Lei mi ha sentito Io ti ho sentito No, no Niente arco di quella merda Hai detto No, no L'hai detto L'hai incazzata Claudia Che mi sei incazzata Guardala Bene Va bene Quindi adesso Molti dei 5 stelle Vediamo Cosa succede Garantita Però vediamo quando esce Intanto sappiamo che c'è Quindi Allora Bello Will sit Ok Poi Vabbè Mazzo della persuasione E a Piti 77 Eccola qua 77 Ho visto però il mio laghettino Però l'ho detto giusto poi Quando mai possiamo andare Stiamo a 10 Si va a 20 Quindi non c'è nemmeno difficoltà A conteggiare Eccoci 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 Come ci sentiamo? Non lo so Io non ho parole Siamo a 12 13 14 Ma perché c'è silenzio C'è 15 Non è successo nulla 17 18 Non ci voglio credere Non ci voglio credere No 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 Quando la facciamo Perché appunto Visto che non sappiamo Se ne tiri due Se ne tiri tre In base a quello che ti va Si va a dritti Vediamo dai Vediamo come va No ragazzi Io Non ci sto credendo Niente Sarà bene Non sia lei 13 14 Ma non ci voglio Ma non ci voglio 40 Dai Su Oh Yes Prima del piti Eccolo Subito Piti 31 Eh 66 Subito 66 Yes Sì 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 Quella giusta 79 Ok Yes Sì Ne ho a 25 Ma io non so a che piti siamo Raga Non sappiamo a che piti siamo Ma che C'è Boh Vabbè Per noi è piti 25 Raga Per noi è piti 25 Questo è Questa schingola qua È piti 16 È 16 Per quello che aveva visto Poi Non lo spero Vabbè 16 17 7 Madonna che ansia 18 19 È il palese piti benedetto Ehi su 20 21 Sì Non ci credo raga Ma che sta succedendo oggi Che sta succedendo Piti 21 Poi non si sa Magari in realtà è piti 70 Ma che cazzo Non è stato Pullare così è ovvio E poi uno la pazia Gli viene fuori Due multi Va bene Due multi Se va a piti 5 Quello che succede Succede Si va a piti 15 Due multi Ragazzi 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 non so che dirvi Ragazzi non so che dirvi Oggi Ragazzi Io non dico nulla Non dico nulla Ragazzi Ragazzi non dico niente Sto facendo Della roba Micidiale Io non so Che cosa mi sta succedendo Oggi Io non so Che cosa mi sta succedendo Oggi Questa è piti 6 Questa singola Ragazzi Qui o se è vinto E siamo a c1 O se ci sei garantito Va bene in entrambi i casi Questo è 6 7 Piti 7 Ecco a voi Arlecchino c1 Piti 7 Prendono i gatti 45 Aiuto Ok Va benissimo A piti 36 Penso vada benissimo Inque E adesso si tira la monti Non c'è bisogno Che c'è Sa Ci ha scammato Piti 75 Vabbè Si risparmia A meno si risparmia Potrebbe essere qua C'è C'è Ce l'abbiamo Ce l'abbiamo Allora Allora C'è C'è Io non ero pronta La devo uscirse dopo Perché di solito è dalla 66 In poi Ok Chanabu Ok Questa era 56 57 Ma tanto io penso sarà l'ultima 58 59 69 60 61 Dio che paura 62 63 63 63 63 63 64 64 L'ultima Eh L'ultima L'ultima 65 Maledetto Arco di linee Va bene Vai Vai Io sono già L'ansia Di vita C'è 5 stelle C'è 5 stelle Intanto Perché poteva anche uscire dopo Ok Ma ti devo dire Proprio vai avanti Anche con i click No 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 Io vado avanti Quando è Tu dimmi apri gli occhi Ok allora Intanto li faccio piano Sì sì va bene Io Poi cliccare Puoi aprire gli occhi No grazie Grazie Gesù Grazie 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 Non mi devo andare a buttare Dall'arno Grazie Vabbulatale Non me l'aspettavo Grazie Vabbulatale Grazie a tutti gli elfi Non me l'aspettavo Proprio lui Proprio lui Dai due molti Portiamo a casa l'arma Di Arlecchino Fiesta Madonna Così Così Io proprio Esco fuori al balcone Inizio a gridare Per il quartiere Va bene Però ancora su Discord Se ti sentiamo anche noi Non chiudere la camera Porta le cuffie fuori al balcone Va bene Perfetta Andata Ok quando vuoi Questa mandare Tanto quando la facciamo La scommessa Vediamo Allora Oddio Oddio Non ci credo No Non è vero Non ci credo Oddio Tu vai sui balconi Addo Tu ci vai Ora Io ho paura Perché devo andare sul balcone Cioè Ci credo Oh mio Dio Oddio Paura Che spavento Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì brutta il momento di andare sul balcone un bel ci fuori dal balcone un bel sì cazzo ce lo meritiamo ce lo meritiamo proprio anche se si sente male non importa no no perché sono ci arrivo con il cavo bisogna gridare un'altra volta fuori dal balcone qua qui si voleva qui ormai denunciato vediamo no 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 ragazzi allora ragazzi ho raggiunto una certa età il mio cuore non regge è perché ha quitato il gioco e vuole farlo ritornare ma guarda se è così quinto ogni volta ragazzi che non volevo mai mi mancava è di nuovo il garantito ragazzi non ci vedo non è reale tutto questo perfetto perfetto ok alla grande ok bene quando te la senti andiamo molti dei 5 stelle ok intanto c'è ce l'abbiamo però tu giochi dalla play a me dalla play non so se lagga cioè mi lagga la pc dalla play non so se lagga quindi ma io da pc sono adesso ah sei da pc? eh sì perché dal play non si può fare la condivisione quindi hai ragione hai ragione non ci vedo io non ci vedo non ci vedo non è reale ma che sta succedendo a me non ci vedo ragazzi 70 aiuto sì 70 oh grazie nella multiprima allora 61 62 63 oh ok va bene dai dai quasi due multiprima del 5 stelle ok no no è successo vabbè dai poteva uscire a 84 qui erano due multiprima la metà ok andiamo a 40 dai vediamo se questo pt ester no non ci vedo dai non è vero non è vero non è vero non è reale ragazzi non è reale però questo funziona solo in live perché io la pazzia io la pazzia di eula l'avevo fatta a fine banner era tipo alla fine quindi c'è stata la disperazione anche adesso c'è la disperazione però vabbè finché è a pt32 ester guarda bonaz dai eh? boh ciao diona e tito e tito e tito vabbè in onore del tito è uscita una diona nel silenzio e tito e fine mi so ok vabbè è uscita nella seconda singola si 32 pt9 uno sul no e facendo vincere il no prende tutti i miei punti praticamente che cosa tecnica ok andiamo a 30 30 no vabbè ester dai ma non è possibile ester dai non ci credo dai ester ma io devo fai pdx un stampa 5 ma che è questo cos'è era pt21 vabbè vabbè lei l'aveva detto ok lei l'aveva detto comunque lei stupiti tra la 20 e la 40 quindi alla fine tutto torna tutto torna perfettamente ti è rimasto un personaggio garantito nel banner di là teoricamente saperlo prima tentavo le willette però va bene ormai dicevamo del fatto che non avevi archi a 5 stelle allora si non ho ghanio però si non ho archi a 5 stelle effettivamente e dicevo si ramos ci poteva anche stare nel senso su tignali adesso puoi scegliere se dagli l'uno o l'altro si si o potresti iniziare a pensare di pullare qualche personaggio e sfrutta il caricato visto che adesso hai solo archi a 5 stelle per personaggi che non sfrutta il caricato ma potresti pullare ghanio in futuro potresti pullare ghanio si penso che ma sai che ma sai che quando mettono il banner delle cronache di dioe potresti farci un pensiero a male che vado a perdere il pt con uno shao con una shao mai dire mai ti giuro ma non c'è un pensiero let's go multi del 5 stelle eccolo il lag eccolo qua era questo il lag sappiamo che è lei quindi questo era un lag bello potente perché te la garantisce subito alla 75 lag 5 stelle lei il lag del personaggio nuovo subito a pt75 quindi ufficialmente è uscita prima del soft di uno pt30 punto interrogativo si va eccoci appunto effettivamente le polearm ti amano hammer effettivamente le polearm ti amano fino a prova contraria le polearm ti amano amo tiro giù i santi no amo no sta arma del ca magari non è sola 1 2 aspetta aspetta che cazzo fa con l'inceneritore 3 4 5 6 attacco on titan 7 ti passo l'iban poi pt7 ti passo l'iban bene a tramulti si va a 40 è pazza ragazzi ragazzi aiuto ragazzi è volata qualcosa non lo so aiuto aiuto non ha laggato non ha laggato quindi non è nuovo non è nuovo allora e cosa è volata la mia zero su ma la vola sempre di sotto sta disgraziata allora allora non è nuovo hammer ti manca cioè no no ma che cazzo ragazzi questa mi sta chiedendo lasci due di diluc e non lasci uno di arlecchino ragazzi io non ci voglio non ci voglio non ci voglio io non posso fare questo mi licenzio io mi licenzio io mi licenzio ma mi sta chiedendo la scintura di diluc vabbè vabbè vediamo vediamo 31 32 io mi sento malissimo 33 34 mi dispiace hammer mi dispiace ti ho vinto il 50 e 50 mi dispiace ti ho trovato arlecchino c1 tu volevi diluc c2 mi dispiace veramente sono mortificata mi dispiace ho sbagliato si sbaglia tutti nella vita ho sbagliato io oggi ho vinto il 50 e 50 e non dovevo scusate ciao